Alice nel Paese della Meraviglia Capitolo primo Giù nella conigliera Alice cominciava a sentirsi mortalmente stanca di sedere sul poggio Accanto a sua sorella Senza far nulla Una o due volte aveva agittato lo sguardo sul libro che leggeva sua sorella Ma non c'erano immagini né dialoghi E a che serve un libro, pensò Alice Senza immagini e dialoghi E andava fantasticando col suo cervello Come meglio poteva perché lo stellone l'aveva resa sonnacchiosa e grullina Se il piacere di fare una ghirlanda di margherite Valesse la noia di levarsi su e cogliere i fiori Quando ecco un coniglio bianco con gli occhi di Rubino le passò da vicino Davvero non c'era troppo da meravigliarsi di ciò Né Alice pensò che fosse cosa troppo stravagante di sentir parlare il coniglio Il quale diceva fra sé Oimè, oimè, ho fatto tardi Quando se lo rommentò in seguito si accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene Ma allora le sembrò una cosa assai naturale Ma quando il coniglio trasse un origuolo dal taschino del panciotto E via fissò gli occhi e scappò via Alice saltò in piedi Perché le era venuto in mente che la non aveva mai veduto Un coniglio col panciotto e il suo rispettivo taschino Né con un origuolo da starvici dentro E divorata dalla curiosità Traversò il campo correndogli appresso E giunse proprio a tempo di vederlo slanciarsi in una spaziosa conigliera Di sotto alla siepe In un altro istante giù Alice scivolò Correndogli appresso Senza punto riflettere come mai avrebbe fatto per riuscirne fuori La buca della conigliera sfilava dritto come una galleria di tunnel E poi si inabissava Tanto rapidamente che Alice non ebbe un solo istante Per considerare se avesse potuto fermarsi Poiché si sentiva cadere giù Rotoloni in quel precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo Una delle due O il pozzo era arci profondo O il la viruzzolava assai ad agino Poiché ebbe tempo mentre cadeva Di guardare tutto intorno E stupiva pensando a ciò che le avverrebbe poi Prima di tutto aguzzò la vista e cercò di vedere nel fondo Per scoprire ciò che le accadrebbe Ma gli era buio affatto E non ci si vede appunto Indi guardò alle pareti del pozzo Ed osservò che erano ricoperte di credenze E di scaffali da libri Qua e là vide mappe e quadri Che pendeano da chiodi Andando giù Prese di volo un vasettino Che aveva un cartello Lo lesse Conserva d'arance Ma oimè Era vuoto E restò delusa Non volle lasciar cadere il vasettino Per non ammazzare chi era in fondo E andando sempre giù Lo depose in un'altra credenza Bene Pensò Alice Dopo una caduta tale Mi parrà proprio un niente Il ruzzolar per le scale A casa poi Come mi crederanno coraggiosa Ora innanzi Ancorché cadessi dal tetto Non ne farai caso E probabilmente dicea la verità E giù E giù E giù Finirà mai Quella caduta Chissà quante miglia Ho percorse a quest'ora Esclamò Davvero io sto per toccare Il centro della terra Vediamo Suppongo che saranno Quattrocento miglia di profondità Come vedete Alice aveva imparate Molte di tali cose Nelle sue lezioni Ma non era quella La migliore occasione Per fare sfoggio Della sua erudizione Perché non c'era nessuno Che l'ascoltasse Ciò non di meno Era bene di ripassarle a mente Sì Ma sarà questa La vera distanza Oppressa poco Ma vorrei sapere A quale grado di latitudine O di longitudine Io sia giunta Alice Non sapeva neanche Non sapeva neanche Che fosse longitudine O latitudine Ma pensò Che erano belle parolone Da dire E le disse Passò qualche istante E poi ricominciò Che dovessi Attraversare la terra Ma sarebbe bello Se uscissi fra le genti Che camminano Col capo in giù Credo che si chiamino Le antipatie Questa volta Fu contenta Che non ci fosse nessuno Che l'ascoltasse Perché quel nome Non le suonava Giusto all'orecchio Ma domanderò loro Che nome abbia Quel paese Di grazia Signora E questa è la Nuova Zelanda O l'Australia E cercò di fare Una riverenza Mentre parlava Figuratevi Far riverenza Mentre si casca giù A precipizio Dite Potreste farla voi Se farò una tale domanda Mi crederanno Una sciocca No non la farò Forse troverò scritto Il nome in qualche parte Laggiù E giù E giù E giù Non avendo nulla da fare Alice ricominciò A cinguettare Dina mi cercherà Stanotte Dina era il nome Della gatta Spero che si rammenteranno Di darle il suo piattino Di latte Quando prenderanno Il tè Cara Dina mia Vorrei che tu fossi Meco Quaggiù Non vi son sorci Nell'aria Ma sai Tu potresti afferrare Una nottola Che è simile Al sorcio Ma che I gatti mangiano Le nottole E qui Alice Cominciò a sonniferare E fra il sonno E la veglia Continuò a ruminare Fra i denti I gatti mangiano Le nottole I gatti mangiano Le nottole E talvolta Le nottole Mangiano i gatti Perché vedete Non potendo rispondere A nessuna Delle due questioni Non le importava Se invertiva Il senso di esse Sonnecchiava di già E proprio allora Cominciava a sognare Che se ne andava A braccetto Con Dina E che le diceva Con faccia austera Dina Dimmi la verità Hai tu mangiata Una nottola Quando Tonfete Cascò dun subito Sopra un mucchio Di ramicelli E di foglie secche E la caduta finì Alice non si fece male E saltò in piedi Lesta è pronta Guardò in alto Era buio Affatto Davanti a lei Sfilava un lungo Corridoio Percorso dal Coniglio bianco Che era sempre In vista Non c'era tempo Da perdere Alice come se avesse Le ali Li corse appresso E sentì che Esclamava Mentre svoltava Una cantonata Giura mio Ti è tardi davvero Stava lì Per raggiungerlo Ma appena Passò la cantonata Il coniglio Non si vide più Ed ella si trovò In una sala Lunga e bassa Illuminata da una fila Di lampade Che pendevano Dalla volta Erano porte Tutti intorno Alla sala Ma erano tutte serrate E dopo che Alice Andò su e giù Provando tutti gli usci Per vedere Se fosse possibile Ad aprirne qualche d'uno Ma sempre inutilmente Si mise a camminare Mestamente Nel mezzo della sala Pensando Come mai Avrebbe potuto Riuscirne fuori Tutto un tratto Capitò vicino A un piccolo Tavolino di cristallo Solido E sorretto Da tre piedi Non c'era altro Su di esso Che una Chiavettina d'oro Or la prima idea Che bialice Fu che quella Potesse aprire Uno degli usci Della sala E provò Ma Oimè O le toppe Erano troppo grandi La chiavettina Era troppo piccola Ma comunque Corridoio Passare anche Anche le spalle Oh quanto Speranza Non volle Bere No Voglio Voglio prima Vedere se c'è scritto Veleno Poiché L'aveva letto Molte belle novellette Sopra ragazzi Che erano stati Abbrucciati E mangiati Vivi da bestie Feroci O cose similianti E tutto ciò Perché non Vollero ricordarsi Della prudenza Che era stata loro Insegnata In casi simili Come per esempio Non maneggiare Le molle infocate Perché scottano Se quel coltello Ti fai sul dito Un taglio Molto profondo Certo Non uscirà sangue Ed ella Non avea dimenticato Quell'altro avvertimento Se tu bevi Smodatamente D'una bottiglia Che ha l'iscrizione Veleno Presto o tardi Ti farà male Ciò non di meno Quell'ampolla Non avea L'iscrizione Veleno Perciò Alice si avventurò Di assaggiarne Il contenuto E trovandolo Delizioso Di fatto Aveva un sapore Misto di torta Di ciliegie Di crema Ad ananasso Di tacchino arrosto Di torrone E di crostini burrati Lo vuotò Tutto d'un fiato Che curiosa sensazione Disse Alice Mi vao Ristringendo Come un cannocchiale Era proprio così Non avea più Che dieci pollici D'altezza E il suo bel vicino Si illuminò di gioia Pensando che finalmente Era giunta Alla giusta statura Per traversare L'usciolino Ed entrare Nel bel giardino Prima Prima aspettò Qualche minuto Per vedere Se rimpicciolisse Di più È vero Che provò Una certa ansietà Su quel mutamento Perché sapete Potrei rimpicciolirmi Tanto Da sparire Affatto Come una candela Disse Alice A chi Rassomiglierai Allora E cercò Di farsi un'idea Dell'apparenza Della fiamma Ad una candela Smorzata Poiché non Poteva nemmeno Ricordarsi Semmai Avesse veduta Una cosa simile E scorsero Alcuni momenti E veggendo Che nulla Di nuovo Le accadeva Se ci insia Ad entrare Nel giardino Ma Povera Alice Quando fu Sull'uscio Si accorse Che avea Dimenticata La chiavettina D'oro E quando si rivolse Verso la tavola Dove l'avea lasciata Vede che non Poteva più Arrivarla Essa la vedea Chiaramente Attraverso Del cristallo E fece ogni Sforzo possibile Per arrampicarsi Ad uno dei piedi Della tavola E montar su Ma gli era Troppo sdrucciolevole E dopo essersi Affaticata in vano Per vincere Quella difficoltà La poverina Si sedette E pianse Via Che vale Abbandonarsi Al pianto Disse Alice A se stessa Io ti consiglio Invece O signorina Di smetter subito Quel piagnucolare Generalmente Credermi due persone Pensò la povera Alice Me ne resta Pina tanto Per comporne una Ed ecco Le cadde Sott'occhio Una cassettina Di cristallo Che giaceva Sopra la tavola Le aprì E vi trovò Dentro un piccolo Pasticcino Sul quale Con uva di corinto Era scritto In belli caratteri Mangia Bene Lo mangerò Disse Alice E se mi farà Crescere di molto Giungerò Ad afferrare La chiavettina E se mi farà Rimpicciolire Mi striscerò Sotto l'uscio Così In un modo O in un altro Entrerò nel giardino E poi Sarà quel che sarà Ne mangiò Un bocconcino E mettendosi La mano sul capo Sclamò ansiosamente E in qual modo E in qual modo Per vedere In qual modo Si mutava Ma restò molto sorpresa Nel vedersi Della stessa natura Certo Così accade A tutti coloro Che mangiano pasticci Ma Alice Era tanto abituata A vedere cose straordinarie Che le sembrava Una cosa stupida E sciocca Quella di crescere Come si cresce generalmente E tornò Alla bisogna E in pochi istanti Ingoiò tutto Il pasticcio Capitolo secondo Lo stagno Di lacrime Curiosissimo E sempre più Curiosissimo Gridò Alice Era tanta La sua sorpresa Che non sapeva Più parlare Correttamente La sua lingua Mi sto allungando Come un cannocchiale E il più lungo Che mai si sia veduto Addio piedi Perché appena Guardò giù Ai suoi piedi E sembrò Che li avesse Quasi perduti Di vista Tanto erano Lontani I miei poveri piedini Chi mai In terra Vi infilerà Le calze E vi metterà Le scarpettine Davvero Io non potrò Farlo più Ormai Sarò Tanto lungi Da voi Che certo Io non Mi prenderò Più briga Di voi altri Bisogna Che vi Accomodiate Alla meglio Eppure Bisognerebbe Che io Li trattassi Bene Pensò Alice Se no Non vorranno Andare Per la via Che io Vorrei Battere Vediamo Un po' Ogni anno A Natale Darò loro Un bel paio Di stivaletti E andava Molinando Col cervello Come farebbe Gli rimanderò Col procaccino Pensò La bimba Ma Gli è davvero Strano Il mandar Regali Ai propri piedi E quanto Sarà curioso L'indirizzo Al signor Piede destro Da Alice Tappeto Presso il parafuoco Coi saluti Da Alice Meschina Quante Sciocchezze Vò dicendo Giusto allora Il suo capo Urtò contro La volta Della sala Avea Più di nove piedi D'altezza Subito Adunghiò La chiavettina D'oro E via Verso l'uscio Del giardino Povera Alice Tutto quello Che poteva fare Consisteva Nel giacere Appoggiando Il fianco Per guardare Il giardino Con la coda D'un occhio Ma il penetrarvi Dentro Era diventato Più difficile Che mai Sedette dunque Si rimise A piangere Ti dovresti Vergognare Disse Alice Figurati Una ragazzona Come te E davvero Lo poteva dire Allora Fare la Piagnucolosa Smetti subito Ti dico Ma pure Continuò Versando Lacrime A secchie Sinché Formò Uno stagno Intorno A lei Di quasi Quattro pollici D'altezza E che Giungeva A metà Della sala Qualche istante Dopo Sentì In lontananza Come uno Scalpiccio Subito Si forbì gli occhi Per vedere Chi fosse Era il coniglio Bianco Che ritornava Splendidamente Vestito Con un paio Di guanti Bianchi In una mano E un gran Ventaglio Nell'altra Veniva Trottando Frettolosamente E mormorando Fra se stesso Oh La duchessa La duchessa Se ne andrà Sulle furie Perché l'ho fatta Aspettare Alice Era tanto Fuori di sé Che avrebbe Chiesto Soccorso A chiunque Le fosse Capitato Così Quando il coniglio Le fu vicino Gli disse Con voce Tremula E sommessa Di grazia Signore Il coniglio Trasaltò Gli caddero A terra I guanti E il ventaglio E in mezzo A quella tenebra Si mise a correre Di traverso Come se avesse Le ali alle zampe Alice Raccattò Il ventaglio Ai guanti E perché la sala Pareva una stufaiuola Si rinfrescò Sventolandosi E parlando fra sé Meschina a me Come ogni cosa È strana Quest'oggi Eppure ieri Le cose andavano Secondo il solito Non mi sorprenderebbe Se stanotte Fossi stata scambiata Vediamo Non ero io Io stessa Che mi levai Questa mattina Mi pare di rammentarmi Che io mi trovai Un poco diversa Ma se non sono la stessa Dovrò rivolgermi Questa domanda Chi mai dunque Sono io Ah Qui sta l'imbroglio E ripensò A tutte le ragazze Che conosceva E che erano Della sua età Per vedere Se per caso Fosse stata Trasformata In una di quelle Certo io Io non sono Ada Disse Perché i suoi capelli Sono inanellati E i miei Non lo sono punto Certo Non sono Isabella Poiché io Sa tante belle cose E quella poverina Sa tanto poco E poi Isabella È Isabella E io Sono io Meschina Che imbroglio È questo Proviamo Se io mi rammento Tutte le cose Che sapeva Una volta Quattro volte cinque Fanno dodici E quattro volte sei Fanno tredici E quattro volte sette Fanno Oh Oimè Se vado a questo passo Non lungerò mai A venti Del resto La tavola aritmetica Non significa nulla Proviamo la geografia Londra è la capitale di Parigi E Parigi è la capitale di Roma E Roma No Ho sbagliato tutto Davvero devo essere stata Trasformata In Isabella Provero a ripetere Rondinella Pellegrina E si mise le mani Con certe al petto Come se stesse Per ripetere le lezioni E cominciò a recitare Quella romanza Ma la sua voce Sonava rauca e strana E le parole Non le uscivano Dalle labbra Come una volta Rondinella Porporina Chiettifosi Sul loggione Raccattando ogni mattina La zanzare Del moscone Ti vuoi frizzare In padella Porporina Rondinella Scommetto Che le vere parole Della romanza Non sono queste Disse la povere Alice E le ritornarono I lucciconi Agli occhi Insomma Continuò a dire Io devo essere Isabella E dovrò andare A vivere In quella casuccia E non aver Quasi più giocattoli E tante lezioni Da imparare Ma se sono Isabella Caschi pure il mondo Io resterò qui Inutilmente Signori miei Caccerete la testa Dal soffitto Per dirmi Carina Vieni su Io alzerò Soltanto gli occhi E dirò loro Chi sono io Ditemelo prima E se sarò E se sarò Che voi cercate Verrò su Se no Lesterò qui Inchiodata Sino a che sarò Qualche d'un'altra Ma Oimè Esclamò Alice Versando un fiume Di lacrime Vorrei che Mettessero fuori La testa Sono tanto Stanca Ad essere qui Sola E si guardò Le mani E si meravigliò Vedendo che Mentre parlava Fra se stessa Aveva infilato Uno dei guanti Bianchi Che il coniglio Aveva lasciati Cadere Come mai Ho potuto Far ciò Disse Forse Sono ridiventata Piccina Si levò E avvicinò Si alla tavola Per misurarsi Con quella Osservò Che per quanto Le pareva Era ridotta A circa due Piedi d'altezza E che andava Impicciolendosi Rapidamente Indovinò Che la causa Di questa nuova Trasformazione Era il ventaglio Che aveva in mano E subito Lo buttò a terra E fu Proprio a tempo Altrimenti Assottigliava Tanto Da sparire Totalmente L'ho scampata Bella Disse Alice Tutta impaurita Da quel subitaneo Mutamento Ma lieta Però Perché esisteva Ancora Ed ora Andiamo al giardino E rivolse Sollecitamente I passi Verso l'usciolino Ma Ai L'usciolino Era chiuso E la chiavettina D'oro Era sulla tavola Come prima Le cose Vanno proprio Alla peggio Pensò La derelitta Fanciulla Non sono stata Mai tanto Piccina E protesto Che tutto ciò È un brutto affare Ma brutto Assai Mentre diceva Queste parole Sdrucciolò E Zaffete Cascò Sino al mento Nell'acqua Salsa In prima Credete Essere Caduta Nel mare E in tal caso Potrò tornare a casa Per la ferrovia Disse Fra sé Alice era stata Una sola volta Ai bagni di mare Dall'ora in poi Si immaginò Che dovunque Si va Verso la spiaggia Trovansi Casotti Da bagni Lungo il mare Ragazzi Che zappano L'arena Con le vanghe Di legno Poi Una fila Di case Immobiliate E dietro ad esse Una stazione Di strada Ferrata Ma subito Si accorse Che era caduta Nello stagno Delle lacrime Che avea versate Quando avea Nove piedi D'altezza Peccato Che io abbia Pianto Tanto Disse Alice Nuotando E cercando Da ferrar La riva Ora sì Che sarò punita Affogando Nelle mie proprie Lacrime Ma sarà Proprio Una cosa strana Ma tutto È strano Oggi E sentì Qualche cosa Che sguazzava Nello stagno Si rivolse E credete Di vedere Un elefante Di mare O un ippopotamo Ma si rammentò Che era assai Piccina allora E scoprì C'altro Non era Che un sorcio Cascato Come lei Nello stagno Pensò Alice Forse Farai bene Di parlare A questo sorcio Ogni cosa È talmente Straordinaria Quaggiù Che non mi stupirei Se gli potesse Parlare Ad ogni modo Proviamo E cominciò Oh sorcio Sai tu la via Per uscire Da questo stagno Oh sorcio Io mi sento Veramente stanca Di nuotare qui Alice pensò Che quello Era il vero modo Di parlare Ad un sorcio Non aveva mai Fatto una cosa Simile prima Ma si rammentò Ad aver letto Nella grammatica Latina Di suo fratello Un sorcio Di un sorcio A un sorcio Un sorcio O sorcio Il sorcio La guardò Fissamente La squadrò Ben bene Con i suoi piccoli Occhietti Ma non rispose Niente Forse Non intende La mia lingua Disse Alice Scommetto Che è un sorcio Francese Venuto qui Con Napoleone E già Con tutte le sue Cognizioni storiche Alice non Sapea al giusto Le date Che citava E ricominciò Era questa La prima frase Che avea trovata Nel suo libricino Di lingua francese Il sorcio Fece un salto Nell'acqua E tremò A verghe Le domando Per dono Soggiunse subito Alice Avvertendosi Di aver scosso I nervi delicati Della bestiolina Avea dimenticato Che lei Non ama i gatti Amare i gatti Io Sclamò Con voce acuta E rabbiosa Amerebbe lei I gatti Se fosse me Forse no Rispose Alice Con voce carezzevole Ma non si adiri Sa Eppure io vorrei Farle vedere Dina La gatta nostra Se la vedesse Ne sarebbe Innamorato pazzo La è una bestiolina Tanto carina E quietina E nuotando Svogliatamente Parlando talvolta A se stessa Continuava Alice E fa le fusa Per benino Quando giace Accoccolata Presso al focolare Leccandosi le zampine E nettandosi la faccia E le tanto soffre Soffice e soave Nelle carezze Ed è proprio Un paladino Nell'afferrare i sorci Oh mi perdoni Esclamò di nuovo Alice Perché questa volta Il sorcio aveva il pelo Tutto arruffato E sembrava offeso Immensamente Noi non ne parleremo più Se ciò le rincresce No davvero Vi do il sorcio Che aveva la tremarella Sino alla punta Della coda Come se io volessi Parlare dei gatti La nostra famiglia Odìò sempre i gatti Bestiacce schifose Volgari e basse Non mi faccia sentir più Il loro nome No davvero Rispose sollecitamente Alice E mutando argomento Soggiunse Dica Le piacciono i I cani? Il sorcio non rispose E Alice si guidò così Vicino a casa nostra C'è un bellissimo cagnolino Se lo vedesse È un cambassetto Con certi belli occhi Luccicanti E col pelo cenerino Arricciato e lungo Lei busca benissimo Le cose che gli si gittano E siede sulle zampine Di dietro Per pitoccare Il suo disinaruccio E fa tante altre belle cosettine Non potrai neppure Ramentarne la metà Appartiene a un fattore Ed egli dice Che la bestiolina Vale proprio un Perù Perché gli è utile di molto E uccide tutti i topi E con me Gridò Alice Tutta sconsolata Temo di averla offesa di nuovo E davvero L'avevo offesa Perché il sorcio Si allontanò Nuotando furiosamente Ed agitando le acque Dello stagno Alice lo richiamò Con un suave tuono di voce Sorcio caro Ritorni pure E io Le prometto Che non parlerò più Di gatti Né di cani A queste parole Il sorcio si rivoltò indietro Nuotando lentamente Verso di lei La sua faccia era pallida Di rabbia Pensò Alice E disse Con voce sommessa E tremante Approdiamo la spiaggia E gli racconterò La mia storia Allora lei capirà Perché io detesti Tanto i gatti E i cani Era proprio tempo Ad uscire fuori Perché lo stagno Si stava riempendo D'uccelli Ed altri animali Che avevano caduti dentro Un'anitra Un dronte Un lori Un aquilotto E altre curiose bestioline Alice apriò la via E tutti nuotando La seguirono Alla spiaggia Capitolo terzo Corsa arruffata E racconto con la coda L'assemblea che si riunì Alla spiaggia Era oltremodo bizzarra Figuratevi Gli uccelli avevano Le piume fradice E gli altri animali Avevano il pelo Incollato a loro corpicciuoli E tutti erano Inzuppati Grondanti d'acqua Tristi e malcontenti Naturalmente La prima questione Che fu posta Fu quella di sapere Come si sarebbero asciugati Si consultarono insieme Su questo argomento E pochi minuti dopo Alice si mise A parlare familiarmente Con uno di loro Come se li avesse Conosciuti da un secolo Ebbe una lunga Discussione con lori Ma bentosto Quest'ultimo Le fece un viso arcinio E disse Perentoriamente Sono più vecchio di lei Perciò Devo sapere più di lei Ma Alice Non volle convenirne Se prima non le avesse detto Quanti anni aveva Il lori non volle dirlo E la loro conversazione cessò Finalmente il sorcio Che sembrava essere persona Ad una certa autorità Fra loro Gridò Si seggano Signori E mi ascoltino Io seccherò tutti In pochi momenti Tutti sedettero in circolo Col sorcio in mezzo Alice Gli affisò ansiosamente Gli occhi in faccia Perché era sicura Che se non si fosse presto Rasciugata Avrebbe guadagnato Un'infreddatura solenne Amm Disse il sorcio Con asia autorevole Sono tutti all'ordine? Questa domanda È bastantemente secca Mi pare Silenzio tutti Di grazia Il generale Udinò Che venne a restaurare Il governo papale Fu presto secondato Dal re di Napoli E dalle truppe Della regina di Spagna E c'è il lori Con un brivido Scusi Disse il sorcio Tutto acciliato Ma con molta civiltà Diceva qualche cosa? Le pare Dispose frettolosamente Il lori Mi era parso di sì Soggiunse il sorcio Continua dunque Il re di Napoli E la regina di Spagna Con Udinò Sposarono la causa Del papa E anche il granduca Di Toscana Trovò la cosa Trovò che cosa? Chiese l'anitra Trovò la cosa Replicò vivamente Il sorcio E la sa che significa La cosa So bene che significa La cosa Quando io Trovo qualche cosa Rispose l'anitra Generalmente trovo Un ranocchio O un verme Or la questione Sta nella cosa Che cosa Ha trovato il granduca? Il sorcio Non gli vada a punto E si affrettò D'andare innanzi Trovò la cosa Ben fatta Cioè di unirsi Ad Udinò Al re di Napoli E alla regina di Spagna Per assistere il papa E rimetterlo sul trono Nel principio Il papa usò moderazione Ma la violenza Dei suoi consiglieri Ebbene carina Come si sente ora? Disse rivolgendosi Ad Alice Bagnata come un pulcino Rispose Alice Mestamente Non mi pare Che la sua storiella Mi secchi abbastanza Allora Disse il dronte Con voce solenne Elevandosi in piedi Propongo Che il parlamento Si aggiorni A ciò che siano Adottati i rimedi Più energici Ma parli italiano Esclamò l'aquilotto Non capisco La metà Delle sue parolone E forse Lei stesso Non intende cica E l'aquilotto Abbassò la testa Per nascondere Un sorriso Ma alcuni degli uccelli Sghignazzarono Apertamente Volevo dire Continuò il dronte Facendo il broncio Che il miglior modo Di seccarsi Sarebbe quello Di fare una corsa Arruffata Che è La corsa arruffata? Domandò Alice Non le premeva Molto di saperlo Ma il dronte Taceva come Se qualche d'uno Dovesse parlare Mentre nieno Sembrava disposto Ad aprire becco Bocca Ecco Disse il dronte Il miglior modo Di spiegarla È quello Di eseguirla E siccome Vi potrebbe venire La voglia Di provare Questa corsa In qualche giorno D'inverno Vi dirò Come il dronte La diresse In prima Tracciò La linea Dello steccato Una specie Di circolo Già Non importa Che sia ben tracciata Disse E poi Tutta la comitiva Entrò nello steccato Mettendosi Chi qua Chi là Non si udì Uno Due Tre Via Ma Cominciarono A correre A piacere E si fermarono Quando ne ebbero voglia In tal che Non si seppe Quando la corsa Fosse terminata Ad ogni modo Dopo che ebbero Corso una mezz'ora O quasi Si sentirono Tutti ben seccati Il dronte Esclamò Tutto un tratto La corsa È finita E tutti L'intorniarono Anelanti Esclamando Ma chi ha vinto Questa domanda Impensierì Immensamente Il dronte Perciò Sedette E restò A lungo tempo Con un dito Appoggiato Alla fronte Tale quale Come era presentato Dante Mentre gli altri Zittivano Finalmente Il dronte Disse Tutti quanti Hanno vinto E tutti Devono essere Premiati Ma chi distribuirà I premi Replicò Un coro Di voci Essa Si intende Disse il dronte Indicando Alice Con un dito E tutti Si affollarono Intorno a lei Gridando Confusamente I premi I premi Alice Non sapeva Che fare E nella disperazione Cacciò la mano In tasca E ne cavò Una scatola Di confetti Per buona sorte L'acqua Non verrà entrata Dentro E ne distribuì Tutti intorno Ce ne erano Appunto Uno per uno Ma essa Dovrebbe avere Un premio Disse il sorcio Si intende Soggiunse il dronte Gravemente Che altro Ha in saccoccia Disse rivolgendosi Ad Alice Soltanto un ditale Dispose Mestamente La fanciulla Dì a qui Replicò il dronte E tutti La cerchiarono Di nuovo Mentre il dronte Con molta gravità Le offrì Il ditale E disse La preghiamo Di accettare Quest'elegante Ditale E appena finito Questo breve discorso Tutti Applaudirono Alice Giudicò Tutto questo affare Come una cosa Sovranamente Stupida Ma avevano tutti Un contegno Talmente grave Che la non osò Ridere Pure Non seppe Che cosa rispondere Ma semplicemente Si inchinò E prese il ditale Assumendo la migliore Serietà del mondo Rimaneva ora Il mangiare i confetti Ciò produsse Un po' di rumore E di confusione Poiché gli uccelli Grandi Si lagnavano Che non avevano Potuto assaporare il gusto E gli uccelli piccoli Avendoli inghiottiti Ne rimasero pressoché Strozzati E si dovette loro Picchiare la schiena Ma Anche ciò Ebbe un termine E si dettono in circolo Pregando il sorcio Di dir qualcosuccia In più Si rammenti Che mi ha promesso Di raccontarmi La sua storia Disse Alice E la ragione Per cui odia I G E I C Soggiunse Sommessamente E un poco con paura Che di nuovo Si offendesse La mia È una storia Lunga e trista E con la coda Rispose il sorcio Rivolgendoci Con un sospiro Ad Alice Certo È una lunga coda Disse Alice Guardando con meraviglia Alla coda Del sorcio Ma perché La chiama Trista E continuò A penservi Sopra imbarazzata Mentre il sorcio Parlava E così L'idea Che si fece Di quella storia Con la coda Fu pressapoco Questa Furietta Disse al sorcio Che in casa Avea trovato Andiamo al tribunale Ti voglio processare Non chiedo Le tue scuse O sorcio Indiavolato Quest'oggi Non ho nulla A casa mia Da fare Disse a furietta Il sorcio Ma come andremo In corte Senza giurì Ne giudici Sarebbe una vendetta Sarò Giurì E giudice Rispose Allor furietta E passerò Latrando La tua sentenza A morte Ella non presta Attenzione Disse il sorcio Ad Alice In tono severo A che cosa Sta pensando Le domando Scusa Rispose umilmente Alice Ella è giunta Alla quinta curvatura Della coda Non è vero No No Rispose il sorcio Con voce acerba E dirata Che C'è un nodo Esclamò Alice Sempre pronta E servizievole E guardandosi attorno Mi concede il favore Di disfarlo Niente affatto Rispose il sorcio Levandosi in atto Di partire Lei mi insulta Dicendomi Tagli Scempiaggini No davvero Disse Alice Con sottomissione Ma Lei si offende Tanto facilmente E per tutta risposta Il sorcio Si mise a borbottare Di grazia Ritorni E finisca il suo racconto Alice dunque Lo richiamò E tutti gli altri Sclamarono in coro Via Finisca il racconto Ma il sorcio Crollò il capo Con un moto Di impazienza E affrettò il passo Peccato Che non sia restato Disse sospirando I lori Appena che il sorcio Si perde di vista E un vecchio granchio Colse quella opportunità Per dire alla sua figlia Amore mio Ciò ti serva di lezione E vada A non andar mai In collera Sta zitto babbo Rispose la piccina Con un fare sdegnosetto Tu Trovocheresti Anche la pazienza Di un'ostrica Ah se Dina fosse qui Disse Alice Parlando ad alta voce Ma senza rivolgersi A chi che sia Lo porterebbe indietro In un momento Perdoni la curiosità Chi è Dina? Domandò il lori Alice rispose Sollecitamente Perché la era Sempre pronta A parlare Della sua prediletta Dina è la nostra gatta È un vero paladino Quando va a caccia Di sorci E se la vedeste Correre dietro Agli uccelli Visti e presi Questo discorso Produsse un'impressione Vivissima Nell'assemblea Alcuni uccelli Volarono via Di botto Una gazza vecchia Si avviluppò Ben bene Dicendo È ormai tempo Di tornare a casa L'aria della notte Mi fa male Alla gola E un cannellino Chiamò Con voce tremula Tutti i suoi piccini Venite Venite carini Gli ha tempo Di andare a letto E così Chi con un pretesto Chi con un altro Tutti andarono via E Alice rimase sola Non fatto male A nominare Dina Disse fra sé Assai mestamente Eh Pare che nessuno L'ha amico giù Eppure è la miglior gatta Del mondo Oh Dina mia cara Chissà Se ti rivedrò mai più E la povera Alice Ricominciò a piangere Perché si sentiva Tutta soletta E sconsolata Ma alcuni momenti dopo Sentì di nuovo Uno scalpiccio In lontananza E guardò fissamente Nella speranza Che il sorcio Avesse mutato pensiero E tornasse Per finire il suo racconto Capitolo quarto La casettina del coniglio Era il coniglio bianco Che ritornava Bel bello indietro Guardando ansiosamente Qua e là Come che avesse smarrito Qualche cosa E mormorando Fra se stesso Oh la duchessa La duchessa Oh zampine mie Belle i baffi miei Siete freschi Ora Ella mi farà impiccare E ne son tanto sicuro Come son certo Che le donnole Sono donnole Ma dove mai Mi son caduti Alicendo vino subito Che gli andava ricercando Il ventaglio E il paio di guanti bianchi E buona E servizievole Com'era Sedette intorno Per ritrovarli Ma fu inutile Non si trovarono Ogni cosa Sembrava mutata Dal momento Che era cascata Nello stagno E la gran sala Il tavolino di cristallo E l'usciolino Erano svaniti totalmente Bentosto il coniglio Ci accorse di Alice Mentre ella si affannava Alla ricerca E gridò Con voce irata Marianna Che cosa stai facendo Qui Via Corri a casa E portami un paio di guanti E un ventaglio Subito Ti dico Alice fu tanto spaventata Da quella voce Che senza perder tempo Corse velocemente Verso il luogo indicato Senza dir nulla Sullo sbaglio Che il coniglio faceva Mi ha presa Per la cameriera Disse fra sé Mentre continuava A correre E il sarà molto sorpreso Quando scoprirà Chi io sia Ma è meglio Recargli il ventaglio E i guanti Cioè Pur che io Li possa trovare E giunse innanzi A una bella casettina E sull'uscio Vera un cartello Inciso sopra Una rilucente Lamina di ottone Con questo nome Coniglio B Entrò Senza picchiare All'uscio E frettolosamente Divorò tutta la scala Temendo di incontrare La vera Marianna E di essere da lei Cacciata via Dalla casa Prima di trovare Il ventaglio E i guanti Gli è proprio Curioso Pensò Alice D'essere mandata Da un coniglio A far servizi Mi aspetto Che Dina Vorrà poi Mandarmi a far servizi Per lei E cominciò A fantasticare Ciò che in tal caso Avverrebbe Signora Alice Venga qui subito E si prepari A trottare Eccomi qui Tata Ma dovrai Far la guardia A questo buco Sin che Dina Venga A ciò che Il sorcio Non ne scappi Però non crederei Continuò Alice Che permetterebbero A Dina Di restare in casa Se essa cominciasse A comandare la gente A questo modo E così Ciarlando Entrò In una cameretta Assai pulitina Con una tavola Presso al terrazzino E sopra di esse Verano Come Alice Aveva già sperato Un ventaglio E due o tre paia Di guanti bianchi E nitidi E la presa il ventaglio E un paio di guanti E stava per uscire Quando le cadde Sott'occhio Un'ampolla Che stava vicino Allo specchio Non avea nessun cartello Attaccato Con la parola Bevi Eppure Essa la sturò E se l'avvicinò Alle labbra Certo Certo Immediatamente Capo E cresceva Ancora Pensò Pensò la povera Alice Colà Non passava Non passava Avventure Come potresti imparare Le lezioni Qui C'è appena spazio Per te Come centrerebbero I libri E così passava Il tempo Ora parlando Ora rispondendo A se stessa E facendo Una vera conversazione Fra Alice Ed Alice Ma dopo qualche istante Sentì una voce Di fuori E si mise Ad ascoltare Marianna Marianna Voceva quel tale Di fuori Portami subito I guanti E si sentì Un calpestio Frettoloso Per la scala Alice pensò Che fosse il coniglio Che veniva A sollecitarla A far presto E tremò Tanto da scuotere La casa Dalle fondamenta Scordandosi Che ormai Era diventata Mille volte Più grande Del coniglio E che non c'era Motivo Di spiritare Di paura Il coniglio Giunse all'uscio E cercò Di aprirlo Ma Mi era inutile Spingere la porta Perché il gomito D'alice Era puntellato Contro Alice Udì che il coniglio Diceva tra sé Andrò dietro la casa Ed entrerò Per la finestra Non c'entrerai Pensò Alice E attese Sino a che le parve Che il coniglio Fosse sotto la finestra Allora Apridun Subito la mano Come se volessi Acchiappare Qualche cosa Nell'aria Non afferrò nulla Ma sentì Uno strillo E il rumore Di una caduta Poi un fracasso Di vetri rotti E capì Che il poverino Era probabilmente Cascato In qualche vetrina Da cetrioli O cosa simile Poi sudì Una voce rabbiosa Quella del coniglio Gianni Gianni Dove sei E rispose una voce Che la non aveva mai sentita Eccomi qua Stavo scavando patate Illustrissimo Scavando patate Tuonò furiosamente Il coniglio Vieni qua Aiutami per uscire Da questo Crick Si sentì scricchiolare Il vetro Dimmi Gianni Che mostruosità C'è lassù Alla finestra Poffare Gli ha un braccio Illustrissimo Un braccio Va via Paperone Chi ne ha mai veduti Di quella grossezza Diamine Riempie tutta la finestra Gli è proprio così Illustrissimo Ma è un braccio Bello e buono Bene Ma ei Non ha niente da fare Con la mia finestra Va Portalo via Successe un lungo silenzio Poi Alice sentì Un bisbiglio Sommesso E parole come queste Davvero Non potrai Illustrissimo No davvero Fa come ti dico Il liaccone Allora Alice Di nuovo Fendette l'aria Con la mano Minacciando Ad acchiappare Questa volta Sudirono Due strilli acuti E Di nuovo il vetro Quante vetrine Da cetrioli Vi debbono essere Colaggiù Pensò Alice Chissà Che faranno dopo Quanto al cacciarmi Fuori dalla finestra Vorrei Che potessero farlo Certo Io non ho mica voglia Di rimanere più qui Aspettò un poco Ma non si sentiva nulla Ecco Finalmente Avvicinarsi Un cigolio Di certe ruote Di carri E molti Che vociavano E parlavano insieme E sentì Che dicevano Dov'è L'altra scala Ma io Non ne doveva portare Che una Tonio All'altra Di Tonio Portala qui Bambino mio Là Appoggiatela A quel cantone No no Legatela insieme Prima Non vedete Che non arrivano O vi arriveranno Non sarà tanto difficile Qua Tonio Afferra questa fune Ma reggerà Il tetto Bada Quella tegola Che vacilla Uè Casca giù Bada Bada Patatrac Chi ha fatto ciò Di Tonio Credo Chi scenderà Per la gola Del caminetto Io no Vuoi tu No Neppur io Tonio Dovrà scendervi Uè Tonio Il padrone Dice che Devi scendere Per la gola Del caminetto Bellino Disse Alice Fra sé Così Questo Tonio Verrà dal Caminetto Pare che Quei signori Abbiano posto Ogni carico Sulle spalle Del povero Tonio Non vorrai Essere mica Nei suoi panni Questo camino È molto angusto Non ve dubbio Ma potrò Tirarvi Qualche calcio Credo E ritirò Il piede Quanto più poter Del caminetto Ed aspettò Sino a che sentì Un anima luccio Senza che potesse Indovinare A che razza Appartenesse Che raschiava E scendeva Ad agino Lunghesso Il camino Gli è Tonio Disse E tirò Un bel calcio Poi Attese Ciò che seguirebbe Dopo La prima cosa Che sentì Fu un coro Di voci Che diceva Ecco Tonio Che vola E poi La voce sola Del coniglio Che gridava Pigliatelo Voi altri Che siete vicino Alla siepe E poi silenzio E poi Una gran confusione Di voce Sostenetegli il capo Qua L'acquavite Non lo soffocate Come andò Compare Che cosa ti avvenne Su Narraci tutto Finalmente Sudì una vocina Debole e sibilante E Tonio Pensò Alice Non saprei Che dirvi Non più Grazie Sto meglio Ma Mi sento Troppo agitato Per raccontarvelo Tutto quel Che mi rammento Gli è qualche cosa Che mi sbalestrò In aria Ed io schizzai via Come un razzo Schizzasti via Davvero Poveretto Dissero gli altri Incendiamo la casa Esclamò il coniglio Ma Alice Ma Alice gridò subito Con quanta voce Aveva in gola Se fate ciò Vi farò Acchiappar tutti Da Dina Si fece subito Un gran silenzio E Alice Disse fra sé Vediamo Cosa faranno ora Se avesse il cervello Scoperchierebbero Il tetto Qualche istante Dopo Cominciarono A muoversi Di nuovo E sentì Il coniglio Che diceva Basterà Una carrettata Per cominciare Una carrettata Di che? Disse Alice Ma non restò Molto in dubbio Perché subito Una grandine Di sassolini Cominciò a scoppiettare Dalla finestra Ed alcuni La colpirono In faccia Bisogna finirla Pensò Alice E gridò Fareste bene Di non provarci Un'altra volta Queste parole Produssero Un altro silenzio Sepolcrale Alice Osservò Con un po' Di stupore Che i sassolini Si convertivano In pasticcini Appena toccavano Il pavimento E subito Un'idea Le sfolgorò In mente Proviamo a mangiare Uno di questi Pasticcini Disse Certo Essi produrranno Qualche mutamento Nella mia statura E siccome Non potranno Farmi più grossa Di quel che sono Mi impiccioliranno Forse E mangiò Un pasticcino E si rallegrò Di vedersi Subito impicciolire Appena che Si sentì piccola Abbastanza Per uscire Dalla porta Scappò Dalla casa E incontrò Una folla Di animalucci Ed uccelli Che aspettavano Fuori La povera lucertola Era Tonio Stava nel mezzo Sostenuta Da due porcellini D'India Che le davano Qualche ristoro Da una bottiglia Appena Appena Comparve Alice Tutti Si avventarono Addosso Ma la bimba Si mise a correre Sino che si ritrovò Sana e salva In una foresta La prima cosa Che dovrò fare Pensò Alice Vagando Nella foresta La è Quella di ricrescere E giungere Alla mia Statura naturale E la seconda Poi sarà Di cercare Il modo Di entrare In quell'ameno giardino E questo Mi pare Il miglior piano E davvero Sembrava Un piano eccellente E immaginato Assai per benino Ma la difficoltà Stava in ciò Che la non sapea Da dove rifarsi Per metterlo A defetto E mentre Aguzzava l'occhio Fra gli alberi Della foresta Un piccolo Latrato occulto Al di sopra di lei La fece guardare In su Presto presto Un enorme cucciolo La squadrava Con occhi dilatati E rotondi E allungando Una zampa Cercava di toccarla Poverino Disse Alice Con voce carezzevole E per allettarlo Si provò a dirgli Te Te Ma tremava A verghe Temendo che fosse affamato E in qualche caso L'avrebbe probabilmente Divorata A dispetto Di tutte le sue carezze Non sapendo Che farsi Prese un ramoscello E lo presentò Al cagnolino Questi saltò in aria Come un razzo Dando fuori Un urlo di gioia E si avventò Al ramoscello Come se lo volesse Sbranare Allora Alice Si mise cautamente Dietro ad un cardo Altissimo Per non essere Da lui rovesciata Quando si affacciò All'altro lato Vide che il cagnolino Si era avventato Nuovamente Al ramuscello E aveva fatto Un capitombolo Nella furia Ad afferrarlo Ma siccome ad Alice Pazzoloni E con gli occhioni E mi è Pazzoloni vicino a lei pressa poco alto quanto lei e dopo che l'ebbe osservato di sotto ai lati e di dietro ne parve cosa naturale di vedere ciò che vera di sopra si alzò sulla punta dei piedi e affacciossi all'orlo del fungo ed ecco gli occhi suoi si incontrarono con quelli di un grosso bruco turchino e se ne stava seduto nel mezzo con le braccia concerte fumando tranquillamente una lunga pipa turca non facendo la minima attenzione a lei né ad alcun'altra cosa capitolo quinto consigli d'un bruco il bruco ed alice si guardarono in faccia per qualche istante senza far motto finalmente il bruco staccò la pipa di bocca e le parlò con voce languida e sonnacchiosa chi siete voi disse il bruco questa domanda non invitava troppo a una conversazione alice rispose con un po di timidezza davvero io io non saprei dirlo ora so almeno chi ero quando mi levai questa mattina ma dall'ora in poi temo di essere stata scambiata più volte che cosa mi andate contando disse il bruco con voce austera spiegatevi meglio temo di non poter spiegarmi disse alice perché non sono più me stessa come la vede io non vedo rispose il bruco temo che non mi sarà dato di spiegarmi più chiaramente soggiunse alice con modo assai gentile perché io non so capirla neppur io dopo essere stata mutata di statura tante volte in un giorno ciò confonde davvero non è vero disse il bruco bene forse non se n'è ancora accorto disse alice ma quando ella sarà mutata in crisalide e ciò le accadrà un giorno e poi diverrà farfalla ciò le sembrerà un po strano non è vero niente affatto rispose il bruco forse i suoi sentimenti saranno diversi dai miei riplicò alice ma quanto a me mi parebbe molto strano a voi disse il bruco con disprezzo chi siete voi e ciò li condusse da capo al principio della conversazione alice si sentiva irritata alquanto leggendo che il bruco le rispondeva secco secco e si impettì come la matrona romana e disse gli gravemente perché non comincia lei a dirmi chi è perché disse il bruco era quella una domanda imbarazzante e perché alice non sapeva trovare una buona ragione e il bruco pareva di cattivo umore si voltò per andarsene venite qui la richiamò al bruco ho alcunché di importante da dirvi quelle parole promettevano qualche cosa e alice ritornò indietro non andate in collera disse il bruco e questo è tutto rispose alice inghiottendo il suo dispetto no disse il bruco alice pensò che poteva aspettare perché non aveva altro di meglio da fare e perché forse il bruco avrebbe potuto comunicarle alcunché di importante per qualche istante il bruco pipò senza dir nulla finalmente spiegò le braccia staccò la pipa di bocca e disse e così voi credete di essere stata tramutata signor mio ho paura di sì rispose alice non posso più rammentarmi bene le cose come una volta e non posso conservare per dieci minuti la stessa statura quali cose non potete rammentare domandò il bruco ecco cercai una volta di ripetere rondinella pellegrina e m'uscì dalle labbra tutto diverso soggiunse alice assai mestamente ripetetemi guglielmo tu sei vecchio disse il bruco alice incrociò le mani sul petto e cominciò guglielmo tu sei vecchio gli disse il giovanetto sono bianchi i tuoi capelli e meriti rispetto eppur col capo in terra ti vengo camminare ma credi che convenga a un vecchio un tale andare quando ero giovanetto rispose il vecchierello credea che questo gioco sbalzasse il mio cervello ma ormai che son persuaso che inzucca non ho nulla col capo in giù mi invado quando il cervello mi frulla guglielmo tu sei vecchio soggiunse il suo figliuolo sei grosso e grasso e tondo che sembri un cetriuolo eppur fai salti a ruota dimmi a quale scuola si insegna a sfondar l'uscio con una capriola rispose il buon vecchino nella mia giovinezza studiai di conservare al corpo la sveltezza virtù di questo unguento un franco per vasetto ne vuoi comprare un paio garbato giovinetto guglielmo tu sei vecchio e fiacchi hai le macelle ed in collar potresti brodose minestrelle ed hai mangiato un'oca con l'ossa e il becco intero o babbo come hai fatto o spiegami il mistero un dì studiai le leggi il babbo allora gli disse ed ebbi con mia moglie sempre querele irisse ciò dette alle ganasce tal forza muscolare che ormai potrai con loca la moglie divorare guglielmo tu sei vecchio riprese il giovinetto la vista non ti regge e sai ti fa difetto e porti in equilibrio sul naso quell'anguilla no qui la sua destrezza davvero si mostra e brilla risposi a tre domande e ormai ti può bastare non rompermi le scatole non voglio più parlare o credi che mi piacciono le sciocche tue questioni via smetti o per la scala ti mando a ruzzoloni non l'avete recitata bene disse il bruco temo di no rispose timidamente alice certo alcune parole sono scambiate male dal principio alla fine disse il bruco con accento risoluto e successe un silenzio per qualche minuto il bruco fu il primo a parlare di che statura vorreste essere domandò o non vado tanto per il sottile in quanto alla statura rispose in fretta alice soltanto non mi piace di mutar tanto spesso sa non so niente disse il bruco alice non fiatò giamai la poverina era stata tante volte contraddetta e stava lì per scoppiare siete contenta ora domandò il bruco no davvero vorrei essere un pocolino più grande se non le dispiacesse rispose alice si figuri ho una ben meschina statura appena tre pollici l'è una buona statura cotesta disse il bruco con voce dispettosa rizzandosi come un fuso mentre parlava egli era alto tre pollici per l'appuntino ma io non ci sono abituata soggiunse alice con voce carezzevole e mesta e poi pensò fra sé vorrai che coteste creaturine non soffendessero così per nulla vi abituerete col tempo disse il bruco rimettendosi la pipa in bocca ricominciò a pipare questa volta alice aspettò pazientemente che egli stesso riappiccicasse il discorso passati due o tre minuti il bruco levò la pipa di bocca sbadigliò un poco e si scosse tutto poi discese dal fungo e andò strisciando nell'erba dicendo soltanto queste parole un lato vi farà crescere di più e l'altro vi farà diminuire un lato di che cosa l'altro lato di che cosa pensò alice fra sé del fungo disse il bruco come se alice l'avesse interrogato ad alta voce e subito disparve alice rimase pensierosa guardando al fungo e cercando di scoprire quali fossero i due lati di esso e perché era tondo come l'odigiotto non sapea trovarli ciò non di meno allungò quanto potea le braccia per circondare il fungo e ne ruppe due pezzettini all'orlo di ciascuna delle sue mani ed ora qual è l'uno e qual è l'altro disse fra sé e si mise a morsecchiare il pezzettino che aveva alla destra così per provarne l'effetto quando si sentì in un attimo un colpo violento sotto il mento aveva battuto sul piede quel mutamento subitaneo la spaventò moltissimo ma non c'era tempo a perdere perché spariva rapidamente così si mise subito a morsecchiare l'altro pezzettino il suo mento era talmente stretto al piede che a mala pena potete aprirla bocca finalmente riuscì a ingottire un bocconcello del pezzettino della mano sinistra respiro finalmente la mia testa è libera esclamò alice con doia ma tosto la sua allegrezza si mutò in terrore quando ci accorse che non poteva più trovare le spalle guardando giù non poteva vedere che un collo lungo lungo che se levava come uno stelo in mezzo a un campo di foglie verdeggianti che stavano lungi sotto a lei che cos'è mai quel campo verde disse alice e dove sono andate le mie spalle o tapina me come va che non vi reggo più o mia povere mani e andava muovendole mentre parlava ma non sembrava che ne seguisse altro che un piccolo movimento fra le verdi foglie in lontananza non sembrando possibile di portare le mani al capo cercò di piegare il capo verso le mani e fu contenta di vedere che il suo collo poteva piegarsi e dirigersi dovunque come un serpente era riuscita a curvarlo in giù in forma di un grazioso zigzag e stava lì per tuffarsi tra le foglie quando si accorse che erano le cime degli alberi sotto i quali si era smarrita e sentì un gemito acuto per cui si ritirò indietro in fretta un grosso colombo era volato verso di lei e le sbatteva le ali contro la faccia in modo furioso serpente gridò il colombo non sono un serpente io disse alicia dirata va via serpente dico ripete il colombo ma con voce più dimessa e soggiunse singhiozzando ho cercato tutti i rimedi ma nulla mi ha giovato io non so di che cosa mai tu parli disse alicia ho provato le radici degli alberi ho provato i poggetti ho provato le siepi continuò il colombo senza badare lei ma i serpenti oh non c'è modo di contentarli alicia era sempre più meravigliata e confusa ma pensò che era inutile parlare sino che il colombo avesse finito come se fosse poca pena covar le uova disse il colombo mi ha bisogno a vegliare a causa dei serpenti e giorno e notte sono tre settimane che non ho chiuso un occhio mi dispiace di vederti così angosciato disse alicia la quale cominciava a capire il colombo e giusto quando avevo scelto l'albero più elevato della foresta continuò il colombo con un grido disperato e mi credea liberato finalmente da loro ecco che mi piavano giù dal cielo che serpentaccio io non sono un serpente ripeto rispose alicia io sono una io sono una bene chi sei tu disse il colombo vedo bene che tu cerchi dei raggiri per ingannarmi io io sono una ragazzina rispose alicia ma quasi dubitando di se stessa poiché si rammentava l'innumerevole serie di trasformazioni che aveva passate in quel giorno bella storiella disse il colombo con voce di profondo disprezzo ho veduto molte ragazzine in vita mia ma ni una con un collo simile no no tu sei un serpente e non serve negarlo scommetto che mi dirai che non hai mai gustato un uovo ma sì che ho gustato delle uova soggiunse alice la quale era una bambina assai veridica sai pure che le ragazzine mangiano quanto i serpenti non ci credo disse il colombo ma seppure è così e se sono una razza di serpenti ecco quello che potrei dire quest'idea era così nuova per alice che restò muta qualche minuto il colombo ne profittò per soggiungere tu vai occhiando le uova io comprendo che importa a me che tu sia una fanciulla o un serpente ma importa moltissimo a me rispose subito alice pure ora non vado cercando uova e quando anche ne cercassi non vorrei le tue crude non mi piacciono va via da me disse brontolando il colombo e si accovacciò nel nido alice si appiattò il meglio che poteva fra gli alberi perché il suo collo si intralciava fra i rami e spesso dovea fermarsi per sbrogliarsene dopo qualche istante si rammentò che aveva tuttavia nelle mani i due pezzettini di fungo e si mise all'opera con molta avvedutezza morsecchiando or l'uno or l'altro e così ora cresceva e or diminuiva sinché riuscì a riavere la sua statura naturale era tanto tempo che non aveva più avuto la sua statura naturale che da prima le parva strano ma vi si abituò in pochi minuti e ricominciò a parlare fra sé secondo il solito ecco sono a metà del mio piano sono pure strane tutte queste trasformazioni non sono mai certa di che diventerò da un minuto all'altro ad ogni modo sono tornata alla mia giusta statura ora bisognerebbe pensare al modo di penetrare nell'ameno giardino come potrò farlo pagherai saperlo e così dicendo giunse senza vedersene a una piazza che avea nel mezzo una casettina alta quattro piedi circa chiunque sia che vi abiti pensò alice non converrebbe mai con questa mia statura andare a visitarli così all'improvviso farei loro una paura terribile e ricominciò a morsecchiare il pezzettino che aveva alla man destra e non osò di avvicinarsi alla casa se non quando si rimpiccioli tanto che avea nove pollici di altezza capitolo sesto porco e pepe per qualche istante si mise a guardare la casa e non sapea che fare quando ecco un servo in livrea venne frettolosamente dalla foresta lo prese per un servitore perché era in livrea altrimenti al viso l'avrebbe creduto un pesce e picchiò furiosamente all'uscio con le nocchie la porta fu spalancata da un altro servitore in livrea con una faccia rotonda e occhi grossi come un ranocchio ed alice osservò che entrambi avevano in testa parrucche incipriate ed inanellate tutto questo le eccitò la curiosità e uscì un poco dalla foresta e si mise ad origliare il pesce servo cavò di sotto il braccio un letterone grande quasi quanto lui e lo presentò all'altro dicendo con voce solenne per la duchessa un invito della regina per giocare una partita di croquet il ranocchio servo rispose con lo stesso tono di voce ma invertendo l'ordine delle parole da parte della regina un invito alla duchessa per giocare una partita di croquet ed entrambi si inchinarono sino a terra e le ciocche dei loro capelli si imbrogliarono insieme alice proruppe in una grossa risata e dovette internarsi nella foresta per paura di essere sentita e quando poi tornò ad orecchiare il pesce servo era andato via e l'altro sedeva a terra presso all'uscio stralunando stupidamente gli occhi verso il cielo alice si avvicinò timidamente alla porta e picchiò non giova punto a picchiare disse il servo e ciò per due ragioni la prima perché io sto allo stesso lato dell'uscio dove ella sta la seconda perché di dentro stanno facendo un tale strepido che uno potrebbe sentirla e davvero si sentiva un gran rumore nel di dentro un guaire uno sternutire non mai interrotti e di tempo in tempo un gran fracasso come se un piatto o una caldaia andasse a pezzi di grazia domandò alice che dovrei fare per entrare il suo picchiare riuscirebbe a qualche effetto continuò il servo senza badare a lei se la porta fosse fra noi due per esempio se lei fosse dentro potrebbe picchiare ed io la farei uscire capisce e continuava a guardare il cielo mentre parlava e ciò pareva proprio scortese ad alice ma forse non può farne a meno disse fra sé agli occhi incastrati sul cranio potrebbe però rispondere a qualche domanda come potrei fare per entrare dentro disse alice a voce alta io si aderò qui osservò il servo sino a domani in quell'istante l'uscio della casa si aprì e un gran piatto volò verso la testa del servo e gli sfiorò il naso poi andò a sfracellarsi contro un albero che era dietro di lui o sino a dopo domani forse continuò il servo con la stessa imperturbabilità come se nulla fosse accaduto come potrei fare per entrare dentro gridò di nuovo alice ma con voce più forte dovrà entrare rispose il servo è questa la questione principale e aveva ragione soltanto alice non voleva che le fosse fatta quella domanda è orribile mormorò tra sé il modo con cui arguiscono coteste bestie mi farebbero impazzire il servo colse quella propizia opportunità per ripetere l'osservazione con qualche variante io siederò qui su per giù per giorni e giorni ma che cosa debbo io fare domandò alice quel che vuole rispose il servo e si mise a zufolare è inutile parlare con lui disse alice tutta disperata è un idiota spaccato e aprì l'uscio ed entrò quel luscio menava dritto a una cucina spaziosa da un capo all'altro tutta ripiena di fumo la duchessa sedeva nel mezzo sopra uno sgabello a tre piedi e ninnava un bambino la cuoca era in faccia al fornello mestando un calderone che parea pieno di minestra certo c'è troppo pepe in quella minestra disse alice a se stessa non potendo rattenere gli starnuti ma davvero c'era troppo pepe nell'aria anche la duchessa starnutiva qualche volta e quanto al bambino non faceva altro che starnutire e strillava a vicenda senza posa i soli due esseri che non starnutivano nella cucina erano la cuoca e un grosso gatto che stava coccolato presso il focolare e ghignando con la bocca da un orecchio all'altro mi dica di grazia domandò alice un po' timidamente perché non era certa se fosse buona creanza di cominciare a parlare perché il suo gatto ghigna così è un ghigna gatto rispose la duchessa ecco il perché porco e la pronuncia l'ultima parola con una tale furia che alice trassa lì ma subito si accorse che quel titolo era dato al bambino e non già a lei così si rianimò e continuò a dire non sapea che i gatti ghignassero a quel modo anzi non sapea neppure che i gatti potessero ghignare tutti lo possono disse la duchessa e la maggior parte ghignano non ne conosco alcuno che faccia il ghigno replicò alice con molto rispetto e contenta che era entrata in conversazione voi non sapete molto disse la duchessa e questo è quanto non piacca appunto ad alice quella risposta secca e pensò di mutare discorso mentre cercava un argomento la cuoca tolse il calderone della minestra dal fuoco e tosto si mise a cittare tutto ciò che le stava vicino contro alla duchessa e al bambino pria volarono le molle e la paletta poi un nembo di casseruole di piatti e di tondi la duchessa non se ne dette per intesa nemmeno quando era colpita e il bimbo guaiva già tanto forte che non si poteva sapere se i colpi gli facessero male o no ma faccia attenzione a quel che fa gridò alice saltando qua e là tutta spaventata addio naso continuò a dire mentre una grossa casseruola volò vicino al naso del mimmo e poco mancò che non glielo portasse via se ognuno badasse alle proprie faccende sclamò la duchessa con voce rauca il mondo girerebbe più presto di quello che non fa ora ciò non sarebbe un bene disse alice lieta di poter far pompa della sua erudizione pensi che confusione farebbe del giorno e della notte e la sa che la terra impiega 24 ore per girare intorno al suo asse a proposito di asce disse la duchessa tagliatele il capo alice guardò con ansietà la cuoca per vedere se ella ubbidisse al cenno ma la cuoca era occupata di menare la minestra e non pareva che avesse ascoltato perciò andò innanzi dicendo 24 ore credo o 12 io oh non mi seccate disse la duchessa non ho mai potuto sopportare le cifre e ricominciò a cullare il bimbo cantando a una certa ninna nanna e dandogli una violenta scossa alla fine d'ogni strofa parla duro al tuo bambino dagli botte se starnuta lei guaisce il malandrino perché il pepe mio rifiuta e ci annoia coi suoi lai coro al quale si uniscono la cuoca e il bimbo guai 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 mentre la duchessa cantava la seconda strofa faceva saltare il bimbo su e giù con molta violenza e il poverino guai va tanto che alice appena potete udire le parole della poesia parlo duro al mio bambino lo sculaccio se starruta perché il pepe malandrino quando evo non lo rifiuta e ci annoia coi suoi lai guai 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 tenete voi ve lo potete ninnare un poco se va grada disse la duchessa ad alice buttandole il bimbo in braccio bisogna che vada a prepararmi per giocare una partita di crocchette con la regina e scappò via la cuoca le scaraventò addosso una padella e per poco non la colse alice ferrò il bimbo ma con qualche difficoltà perché la era una creaturina molto strana e le sue mani e i suoi piedi guizzavano verso tutti i lati proprio come quell'animaletto marino che si chiama stella pensò alice il poverino quando alice lo prese stronfiava come una macchina a vapore e continuava a contorcersi a stiracchiarsi di tal che ella ebbe la maggior pena del mondo per tenerlo quando la fanciulla trovò la maniera di ninnarlo a modo e ciò consisteva nell'averlo aggruppato bene come un nodo e afferrato all'orecchio destro e al piede sinistro per non permettergli di sciogliersi lo portò all'aria aperta se non porto via questo bambino meco osservò alice è certo che qualche giorno l'ammazzeranno non sarai colpevole di un assassino se lo abbandonassi e la pronunciò le ultime parole a voce alta e il poverino si mise a grugnire per risponderle non starnutiva più allora non grugnire disse alice non sta bene esprimersi a quel modo il bimbo grugnì di nuovo e alice lo guardò con molta ansietà per vedere chi avesse aveva un naso che sarricciava troppo e non c'era dubbio che l'assomigliava più a un grugno che a un naso naturale e poi gli occhi si impicciolivano tanto che non parevano occhi di bambino tutto insieme quell'aspetto non piaceva ad alice punto punto forse singhiozzava pensò il e riguardò di nuovo i suoi occhi per vedere se vi fossero lacrime ma non ce n'erano carino mio se tu ti trasformi in porcellino disse alice seriamente non voglio aver più nulla a che fare con te badate dunque il poverino si rimise a singhiozzare forse grugniva ma era difficile distinguere e andarono innanzi silenziosamente per qualche tempo alice aveva appena cominciato a riflettere che cosa ho da fare di questa creatura quando la porterò a casa allora grugnì di nuovo e tanto forte che tutta spaventata si mise a riguardarla in faccia questa volta non c'era più dubbio era un porcellino bello e buono ed essa fu persuasa che non c'era più ragione di portarlo oltre così depose quella creaturina a terra e si sentì sollevata quando la vide trottare via quietamente verso la foresta se fosse cresciuto disse fra sé sarebbe stato un bruttissimo ragazzo ma diventerà un bellissimo porco credo e riandò con la memoria a certi fanciulli che conosceva i quali potrebbero essere buonissimi porcellini e stava per dire se uno conoscesse il vero modo di mutarli quando trassaltò un poco di paura leggendo il ghignagatto accoccolato sopra un ramo d'albero a pochi metri di distanza il gatto fece soltanto un ghigno quando vide alice sembra di buon umore pensò ciò non di meno ha le unghie troppo lunghe e ha troppi denti perciò bisognerà trattarlo con molta differenza ghignamicio cominciò a dire con un poco di timidità perché non sapeva se gli piacesse quel titolo ciò non di meno egli non fece altro che ghignare più apertamente via ci ha piacere pensò alice e continuò vorresti dirmi quale via dovrei infilare da qui ciò dipende molto dal luogo dove vorresti andare rispose il gatto poco importa dove disse alice allora poco importa di sapere quale via dovresti prendere soggiunse il gatto purché giunga a qualche luogo riprese alice come se volesse spiegarsi meglio oh certo vi giungerai disse il gatto sai il proverbio italiano tanto cammina sino che arriva alice sentì che quel proverbio non poteva essere contraddetto e tentò un'altra domanda che razza di gente abita in questi dintorni di là un disprose il gatto girando la zampa destra abita un capellaio e di qua indicando con l'altra zampa abita una lepre marzolina visita chi vuoi dei due sono entrambi matti ma non mi piace andare dai matti osservò alice oh non c'è modo ad uscirne disse il gatto qui siamo tutti matti io sono matto tu sei matta come sai che io sono matta domandò alice tu devi esserlo disse il gatto altrimenti non saresti venuta qui non parve una ragione sufficiente ad alice ma pure continuò come sai che tu sei matto per cominciare disse il gatto un cane non è matto non ne convieni lo suppongo rispose alice bene continuò il gatto un cane brontola quando è arrabbiato ed agita la coda quando è contento ora io brontolo quando sono contento ed agito la coda quando sono arrabbiato dunque sono matto io direi farle fusa e non già abbrontolare disse alice come vuoi riprese il gatto vai tu quest'oggi dalla regina a giocare a croquet non desidererei tanto rispose alice ma non sono stata ancora invitata mi vedrai da lei disse il gatto e sparì alice non fu sorpresa da tutto questo si era già abituata a veder cose strane mentre guardava ancora al ramo dove era stato il gatto ecco tolgo il comparire di nuovo a proposito che ne è del bimbo disse il gatto aveva dimenticato di domandartene si mutò un porcellino rispose alice senza scomporsi come che il gatto fosse riapparito in modo naturale ah me l'ho immaginato disse il gatto e sparì di nuovo alice aspettò un poco mezza persuasa che riapparisse nuovamente ma non ricomparve e pochi istanti dopo si diresse alla via dove abitava la lepre marzolina di capellai ne ho veduti tanti disse fra sé sarà più interessante per me la lepre marzolina e come siamo a maggio non sarà poi tanto matta da legare almeno meno matta di quel che l'era nel marzo mentre diceva queste parole riguardò in alto ed eccoti di nuovo il gatto accoccolato sul ramo di un albero dicesti porcellino porcellana domandò il gatto dissi porcellino rispose alice ma ti prego di non apparire e di sparire come un lampo mi farai girare il capo sta bene disse il gatto e questa volta spari lentamente cominciò con la punta della coda e finì col suo ghigno e questo restò come una visione sul ramo dopo che tutto era sparito o bella ho veduto spesso un gatto senza ghigno osservò alice ma un ghigno senza gatto è la cosa più curiosa che abbia mai veduta in tutta la mia vita non si era dilungata di molto quando si trovò in faccia alla dimora della lepre marzolina pensò che quella fosse proprio la casa perché le gole dei camini aveano la forma di orecchie e il tetto era coperto di pelo la casa era tanto grande che la non osò di avvicinarsi se non dopo aver morsecchiato un poco del fungo che aveva nella mano sinistra e crebbe quasi due piedi di altezza ciò non la liberò dall'ansietà e mentre si avvicinava timidamente alla porta diceva fra sé e se poi fosse matto furioso quasi quasi vorrei essere andata a trovare il capellaio capitolo 7 un tè di matti sotto un albero in faccia alla casa era una tavola apparecchiata e vi prendevano il tè la lepre marzolina e il capellaio un ghiro che dormiva profondamente stava fra loro ed essi se ne servivano come se fosse un guanciale appoggiando i comiti su di lui e discorrendo sopra il suo capo che disturbo per il ghiro pensò alice ma siccome dorme mi immagino che non ci farà attenzione la tavola era spaziosa pure tra stavano aggruppati insieme in un angolo non c'è posto non c'è posto gridarono quando videro che alice si avvicinava c'è molto posto disse alice sdegnosa e si mise a sedere in un comodissimo seggiolone che stava in una delle estremità della tavola vuole del vino disse la lepre marzolina con modo attraente alice guardò sulla tavola e vede che non c'era altro che te non vedo vino osservò essa non ce n'è punto replicò la lepre marzolina ma allora non è cortese invitandomi a bere quel che non ha disse alice sdegnosamente come non fu punto civile da parte sua di sedersi qui senza essere invitata osservò la lepre marzolina non sapea che la tavola appartenesse a lei rispose alice è apparecchiata per più di tre dovrebbe farsi tagliare i capelli disse il capellaio egli aveva osservato alice per qualche istante e con molta curiosità e furono quelle le prime parole che profferì ella non dovrebbe fare osservazioni che sanno di personalità disse alice un po severa ciò è molto sconveniente il capellaio spalancò enormemente gli occhi udendo quelle parole ma disse soltanto perché un corvo è simile a un coccodrillo via ora sì che ci divertiremo pensò alice sono contenta che hanno cominciato a proporre degli indovinelli credo di poter indovinarlo soggiunse ad alta voce intende dire che potrà trovare la risposta domandò la lepre marzolina sicuramente rispose alice ebbene dica quel che intende disse la lepre marzolina ecco riprese alice in fretta almeno almeno intendo quel che dico e ciò vale lo stesso capite niente affatto lo stesso disse il capellaio sarebbe come a dire veggo quel che mangio è lo stesso di mangio quel che veggo sarebbe come dire soggiunse la lepre marzolina mi piace ciò che prendo è lo stesso che prendo quel che mi piace sarebbe come dire aggiunse il giro che parea parlasse nel sonno respiro quando dormo è lo stesso che dormo quando respiro è lo stesso per voi disse il capellaio e qui la conversazione cadde e tutti si dettero muti per poco tempo mentre alice cercò di ricordarsi tutto quel che sapea su corvi e su coccodrilli ma non era molto il capellaio fu il primo a rompere il silenzio che giorno del mese abbiamo disse volgendosi ad alice mentre prendeva l'oriuolo dal taschino e lo guardava con un certo turbamento scuotendolo di tempo in tempo e appoggiandolo all'orecchio malice pensò un poco e rispose lì quattro del mese ritardo di due giorni osservò sospirando il capellaio te lo dissi che il burro non avrebbe giovato al movimento soggiunse guardando rabbiosamente la lepre marzolina era il miglior burro risponde sommessamente la lepre marzolina sì ma devono esserci entrate anche delle mica di pane rubottò il capellaio non dovevi metterlo dentro col coltello del pane la lepre marzolina prese lo rivolo e lo guardò mestamente poi lo tuffò nella sua tazza di tè e lo guardò di nuovo ma non potete far altro che ripetere l'osservazione fatta pur di anzi era del miglior burro che si potesse avere sapete intanto alice lo guardava con un poco di curiosità di sopra le spalle e disse che curioso rivolo indica i giorni del mese e non già alle ore del giorno perché no esclamò il capellaio che forse il suo rivolo le dice in che anno viviamo ma davvero si affrettò a rispondere alice perché lo rivolo segna lo stesso anno per molto tempo ciò che appunto accade al mio rispose il capellaio alice provò un momento di grave imbarazzo e pareva che l'osservazione del capellaio non avesse senso di sorta eppure parlava correttamente non la comprendo bene disse con molta delicatezza il ghiro è tornato a dormire disse il capellaio e gli versò un poco di tè scottante sul naso il ghiro scosse il capo con un moto di impazienza e senza aprirgli occhi disse già già appunto quello che stavo per dire ancora indovinato l'indovinello disse il capellaio rivolgendosi ad alice mi do per vinta rispose alice qual è la risposta non ne ho la minima idea rispose il capellaio neppure io disse la lepre marzolina alice sospirò dalla noia e disse ma credo che sarebbe bene di passar meglio il tempo che perderne proponendo indovinelli che non hanno senso se lei conoscesse il tempo come lo conosco io rispose il capellaio non direbbe che noi ne perdiamo non si tratta di me ma di lui non so che ella si dica osservò alice sicuro non sa disse il capellaio scuotendo il capo con l'aria di disprezzo scommetto che lei non ha mai parlato col tempo forse no rispose prudentemente alice ma so che devo battere il tempo quando imparo la musica e questo spiega tutto disse il capellaio e non vuole essere battuto se lei non si bisticciasse con lui e gli farebbe dell'orribolo ciò che ella vuole per esempio supponga che siano le nove della mattina che allora per le lezioni basterebbe che la bisbigliasse una parolina al tempo e subito girerebbe la lancetta il tocco e mezzo l'ora del desinare vorrei che fosse bisbigliò la lepre marzolina sarebbe magnifica davvero disse alice pensierosa ma non avrai fame a quell'ora capisce da principio forse no riprese il capellaio ma lei potrebbe fermarlo sul tocco e mezzo quando vorrebbe ed ella fa così domandò alice il capellaio scosse la testa mestamente rispose io no ci siamo bisticciati nello scorso marzo proprio quando egli divenne matto indicò col cucchiaino la lepre marzolina già fu il gran concerto dato dalla regina di cuori io vi dovetti cantare tu che al cielo spiega stilale o mia testa soppressata conosce lei quest'aria ho sentito qualche cosa che le rassomiglia rispose alice la va di questo verso continuò il capellaio ti rivolgi a me fettata te col pane aggiungerò giunto qui il ghilo si dette una scossetta e cominciò a cantare in mezzo al sonno te col pane te col pane aggiungerò e via via andò innanzi sino che gli si dovettero dare dei pizzicotti per farlo tacere ebbene aveva appena finito di cantare la prima quartina disse il capellaio che la regina proruppa furiosa e gli sta assassinando il tempo tagliategli il capo terribilmente feroce esclamò alice dall'ora in poi continuò mestamente il capellaio non ha voluto più far quel che io gli chiedo segna sempre le sei un'idea luminosa colpì alice e domandò e questa fosse la ragione per cui vi sono tante tazze apparecchiate proprio così rispose il capellaio con un sospiro è sempre l'ora del tè e non abbiamo mai tempo di risciacquare le tazze e così andate girando sempre intorno nei frattempi disse alice proprio così replicò il capellaio a misura che le tazze hanno servito ma come fate quando venite a ricominciare da capo alice ardi domandare se mutassimo il discorso disse sbadigliando la lepre marzolina cotesto costì mi secca mortalmente vorrei che la signorina ci raccontasse una storiella temo di non saper contarne alcuna rispose alice un poco intimorita allora il ghiro ce ne dirà una gridarono entrambi risvegliati ghiro e lo punzecchiarono da due lati il ghiro aprì lentamente gli occhi e disse con voce debole e rauca non dormiva io non mi è scappata neppure una parola di quello che dicevate raccontaci una novella disse la lepre marzolina di grazia se ne dica una supplicò alice e fa presto soggiunse il capellaio se no ti raddormenterai prima di finirla c'erano una volta tre sorelle cominciò in gran fretta il ghiro e si chiamavano elce clelia e tilla e divoravano nel fondo d'un pozzo che cosa mangiavano domandò alice la quale prendeva sempre un vivo interesse nelle questioni di mangiare e bere mangiavano melazzo rispose il ghiro dopo averci pensato su qualche istante ma non lo potevano osservò alice con garbo sarebbero cadute ammalate lo erano di fatto rispose il ghiro molto ammalate alice cercò di figurarsi quella strana maniera di vivere ma ne restò confusa e continuò ma perché vivevano nel fondo di un pozzo prenda un po più di te disse la lepre marzolina con molta premura non ho preso ancora nulla rispose alice tutta offesa così non posso prenderne di più vuol dire che non ne puoi prendere di meno disse il capellaio è molto più facile prendere più che nulla ne uno ha domandato il suo parere soggiunse alice chi è che fa ora quelle questioni personali domandò il capellaio con aria di trionfo alice non sape bene che rispondere ma preso una tazza di tè con pane e burro e rivolgendosi al ghiro gli domandò di nuovo perché vivevano nel fondo del pozzo il ghiro si mise a riflettere un poco e rispose era un pozzo di melazzo ma non si è udito mai una cosa simile interruppe alice con voce sdegnosa ma le lepre marzolina e il capellaio vociarono e il ghiro continuò con voce burbera se non ha creanza finisca la novelletta da sé no la prego di continuare disse alice molto umilmente non la interromperò più forse ce ne sarà uno di quei pozzi uno e via rispose il ghiro sdegnosamente ciò non di meno pregato continuò e quelle tre sorelle imparavano a trarne che cosa traevano domandò alice dimenticando che aveva promesso di zittire del melazzo rispose il ghiro senza riflettere punto questa volta ho bisogno di una tazza pulita interruppe il capellaio avanziamo tutti di un posto avanti e mentre parlava si mosse e il ghiro lo seguì la lepre marzolina occupò il posto del ghiro e alice prese contro voglio il posto della lepre marzolina il solo capellaio profittò di quel mutamento e alice si trovò peggio di prima perché la lepre marzolina aveva rovesciato il brico del latte nel suo tondo alice non voleva offender di nuovo il ghiro e disse con molta delicatezza non capisco bene da dove traevano il melazzo e la sa trarre l'acqua dal pozzo d'acqua non è vero disse il capellaio ebbene si può così trarre melazzo da un pozzo di melazzo eh stupidina questa risposta crebbe talmente la confusione d'alice che ella permise al ghiro di continuare senza interromperlo più imparavano a trarre continuò il ghiro sbadigliando e stropicciandosi gli occhi perché moriva di sonno e traevano cose di ogni genere tutto quel che comincia con una t perché con una t domandò alice e perché no gridò la lepre marzolina alice zitti il ghiro intanto aveva chiuso gli occhi e cominciava un sonnellino ma punzecchiato del capellaio si risvegliò con un gemito e continuò che comincia con una t come una trappola un topo una topaia un troppo già e la dice il troppo stroppia non ha mai veduto il ritratto d'un troppo stroppia veramente ora che lei mi domanda disse alice molto confusa non so allora non parli disse il capellaio questa sgarbatezza urtò la sensibilità di alice si alzò assai sdegnata e uscì fuori il ghiro si addormentò in un attimo e ne uno degli altri due notò che alice era uscita benché la si fosse rivoltata indietro una o due volte con una mezza speranza che la richiamassero però l'ultima volta vide che le due birbe cercavano di tuffare il ghiro nel vaso da te mai più ci tornerò disse alice internandosi nella foresta è la più stupida società in mezzo a cui io mi sia trovata mentre parlava così osservò che un albero aveva un uscio per quale si entrava proprio dentro cioè molto curioso pensò alice ma ogni cosa oggi è curiosa credo che farò bene ad entrare ed entrò si trovò di nuovo nel lungo salone e presso al tavolino di cristallo questa volta farò meglio disse fra sé e prese la chiavettina d'oro e aprì l'uscio che conduceva al giardino poi si mise a morsecchiare il fungo ne aveva conservato un pezzettino nella tasca sino a che ebbe un piede d'altezza o giù di lì attraversò il piccolo andito e poi si trovò finalmente nell'ameno giardino in mezzo alle aiuole lussureggianti di fiori e fontane fresche capitolo ottavo il croquet della regina un magnifico rosaio stava vicino all'ingresso del giardino le sue rose erano bianche ma tre giardinieri che gli stavano dintorno erano occupati a colorirle di rosso davvero è curioso pensò alice e si avvicinò per osservarli e quando vi fu presso sentì che uno di loro diceva fa attenzione cinque non mi schizzare con le tue pennellate non ho potuto farne a meno rispose cinque con tono burbero sette mi ha urtato il gomito sette lo guardò e disse ma bene cinque in colpa sempre gli altri tu faresti meglio a zittire disse cinque non più tardi di ieri sentì che la regina diceva che tu meriteresti d'essere decollato perché domandò il primo che aveva parlato ciò non preme a te due rispose sette gli preme certo disse cinque e gliel dirò io perché portassi al cuoco bulbi di tulipano invece di cipolle sette scaraventò lontano il suo pennello e stava lì per dire in mezzo a tutte le cose più ingiuste quando si accorse d'alice che li osservava e divorò il resto della frase e gli altri la guardarono del pari e le fecero tutti una profonda riverenza mi direste domandò alice ma timidamente perché state colorendo quelle rose cinque e sette non risposero ma guardarono due due disse allora con voce bassa già è perché codesto costi doveva essere un rosaio di rose rosse e noi per il sbaglio ne abbiamo piantato uno che da rose bianche or se la regina se ne avvedesse a tutti le teste sarebbero tagliate così signorina facciamo il meglio per riparare prima che venga in quell'istante cinque che guardava attorno con ansietà gridò la regina la regina i tre giardinieri si misero subito con la faccia per terra si sentì un grande scalpiccio e alice si mise a guardare per vedere la regina prima comparvero dieci soldati armati di bastoni erano conformati come i tre giardinieri bis lunghi e piatti con le mani ai piedi agli angoli seguivano dieci cortigiani tutti sfogoranti di diamanti andavano a due a due come i soldati venivano poi i principini reali erano dieci divisi a coppie e tenendosi per la mano andavano innanzi quegli amorini saltando come matti erano ornati di cuori poi sfilavano gli invitati la maggior parte re e regine tra loro alice riconobbe il coniglio bianco discorreva con una fretta nervosa facendo bocca da ridere a chiunque gli parlava e passò oltre senza punto badare ad alice seguiva il fante di cuori portando la corona reale sopra un cuscino di velluto rosso e finalmente venivano il re e la regina di cuori alice non sapeva se dovesse cadere a faccia in terra come i tre giardinieri ma non poteva ricordarsi che ci fosse un tal cerimoniale nelle processioni rege e poi a che servirebbero coteste processioni riflette fra sé se tutti dovessero stare a faccia per terra e niente potesse vederle così restò dov'era e aspettò allorché la processione giunse vicina ad alice tutti si fermarono e la guardarono e la regina gridò con un cipiglio severo chi è costei e si rivolse al fante di cuori il quale rispose con un risolino e una riverenza imbecilla disse la regina e impazzente scosse il capo e indirivolgendosi ad alice continuò a dire come ti chiami fanciulla ma sta mi chiamo alice rispose la fanciulla con molta garbatezza ma soggiunse a se stessa non è che un mazzo di carte soltanto non c'è da aver paura di costoro e chi sono cotestoro domandò la regina indicando i tre giardinieri che baciavano la polvere intorno al rosaio perché capite siccome giacevano sulle loro facce il disegno del loro di dietro rossomigliava a quello del resto del mazzo non sapeva discernere se fossero giardinieri o soldati o cortigiani o tre dei suoi propri figli come volete che io sappia rispose alice che si meravigliava del suo proprio coraggio ciò non mi spetta la regina diventò di fiamma per la rabbia dopo di averla fissata ferocemente come una bestia selvaggia gridò tagliatele il capo subito e via rispose alice con voce alta e con fermezza e la regina si tacque il re appoggiò la mano al braccio della regina e disse timidamente cara mia riflettici bene su lei è una bambina la regina gli voltò le spalle con viso irato e disse al fante rivoltateli il fante obbedì e con un piede li rivoltò cautamente levatevi urlò la regina e i tre giardinieri si alzarono immediatamente e si inchinarono davanti al re alla regina ai figli reali e a tutti gli altri basta esclamò la regina mi fate girare il capo e guardando al rosaio continuò che cosa avete fatto al rosaio con la buona grazia della maestra vostra rispose due con voce umile e piegando il ginocchio a terra noi volevamo lo vedo disse la regina che aveva già osservate le rose tagliate loro il capo e la processione reale si mosse lasciando indietro tre soldati per mozzare il capo agli sventurati giardinieri che corsero ad alice per essere da lei protetti non vi decapiteranno disse alice e li mise in un grosso vaso da fiori che stava vicino a lei i tre soldati vagarono qua e là per qualche istante in cerca di loro e poi quietamente seguirono la processione reale avete loro decisa la testa gridò la regina maestà le loro teste non sono più risposero i soldati bene gridò la regina sapete giocare a croquet i soldati zittirono e guardarono alice credendo che la domanda fosse rivolta a lei sì gridò alice avvicinatevi dunque urlò la regina e alice raggiunse la processione curiosa di sapere ciò che avverrebbe in seguito fa bel tempo disse una timida vocettina presso di lei vide che ella camminava accanto del coniglio bianco che la stava occhiando fissandola in faccia con un certo fare inquieto e timoroso bellissimo rispose lice dov'è la duchessa disse il coniglio a voce bassa e parlando in fretta riguardò ansiosamente intorno a lui e alzandosi sulla punta dei piedi bisbigliò all'orecchio della fanciulla è sotto sentenza di morte per quale peccato domandò alice avete detto che peccato disse il coniglio ma no rispose alice non credo punto che sia peccato dissi per quale peccato ha schiaffeggiata la regina cominciò il coniglio alice scoppiò in una grossa risata mi svegliò il coniglio tutto tremante la regina vi potrebbe sentire vedete essa è venuta un po tardi e la regina ha detto ai vostri posti gridò la regina con voce tuonante e gli invitati cominciarono a correre verso tutte le direzioni rovesciandosi gli uni sugli altri finalmente poterono mettersi in un certo ordine e poi cominciò il gioco alice osservò che mai in vita sua non aveva veduto un terreno più curioso per giocare il croquet era tutto a solchi e zolle le palle erano ricci i mazzapicchi erano fenicotteri viventi e gli archi erano soldati viventi curvati e reggentisi sulle mani e sui piedi la prima difficoltà stava in ciò che alice non sapea come maneggiare il suo fenicontero riuscì a tenerselo bene avviluppato sotto il braccio e con le zampe penzoloni ma quando gli allungava il collo e si preparava a picchiare il riccio con la testa il fenicontero girava il capo e poi si metteva a guardarla in faccia con una espressione tanto stupefatta che la non poteva fare a meno di scoppiare dalle risa e quando gli abbassava di nuovo il collo e si accingeva a ricominciare ecco il riccio si era sricciato e andava via oltre a ciò era sempre una zolla o un solco là dove voleva sbalzare il riccio e siccome i soldati si alzavano sempre e vagavano qua e là alice si persuase che quello era un gioco disperatamente difficile i giocatori giocavano tutti insieme senza aspettare la loro volta litigando sempre e picchiandosi a causa dei ricci di tal che la regina ne diventò furiosa e andava qua e là battendo il piede e vociando ad ogni istante mozzategli il capo oppure mozzatele il capo alice cominciò a sentire un po di ansietà è vero che non aveva contrastata con la regina ma ciò poteva accadere ad ogni momento e pensò che cosa ne sarà di me qui hanno un gusto matto a mozzarteste è una meraviglia se ve ne sia alcuno che abbia ancora il capo sul collo e studiava il modo di scappar via senza essere veduta quando osservò un'apparizione curiosa nell'aria prima ne restò sorpresa ma dopo averla riguardata un poco vide il ghigno e disse fra sé è ghignagatto ora avrò qualche d'uno con cui discorrere come va il gioco disse il gatto appena che ebbe tanta bocca per cominciare a parlare alice aspettò che gli occhi apparissero e poi gli facendo col capo è inutile parlargli pensò fra sé aspettiamo che almeno gli orecchi appariscano almeno uno immediatamente apparve tutta la testa e alice depose il suo fenicontero e cominciò a raccontare come andava il gioco liata che uno le prestasse attenzione il gatto intanto dopo aver fatto mostra della sua testa pensò bene a non mostrare il resto del suo corpo non credo che giochino lealmente disse alice lagnandosi contrastano fra loro furiosamente e non si può sentire neppure la propria voce non hanno ordine nel gioco e se uno ve l'è niente uno lo segue e non potete credere che confusione c'è perché qui tutto è vivente per esempio ecco l'arco che io dovrei traversare ma mi scappa via dall'altra estremità del terreno e avrei dovuto fare crocche col riccio della regina ma mi è sfuggita via appena vede il mio come vi piace la regina domandò il gatto a voce bassa punto punto rispose alice la è tanto ma si accorse che la regina le stava vicina un rigliando e continuò abile nel giocare e vincere che è inutile di finire la partita la regina sorrisendo altrove con chi parlate voi domandò il re che si era avvicinato ad alice e osservava la testa del gatto con molta curiosità è un amico mio un digna gatto disse alice vorrei presentarlo a vostra maestà non mi piace punto il cerfo che ha rispose il re ma può baciarmi la mano se vuole non è appunto voglia osservò il gatto non siate impertinente disse il re e non mi guardate in quel modo e mentre parlava si nascondeva dietro ad alice un gatto può guardare un re osservò alice l'ho letto in qualche libro ma non ricordo quale bene ma bisogna cacciarlo via disse il re con voce autorevole e chiamò la regina che passava colà in quel momento cara mia vorrei che quel gatto fosse cacciato via la regina conosceva una sola maniera per appianare tutte le difficoltà grandi o piccole che fossero e perciò senza neppure guardare intorno gridò mozzategli il capo andrò io stesso a cercare il boia disse il re e andò via frettolosamente alice pensò che sarebbe bene ad entrare a vedere come il gioco provvediva tanto più che sentì da lontano la voce della regina che urlava con ira e l'aveva di già sentito che aveva condannato nel capo tre giocatori che avevano mancato alla loro volta tutto ciò non le piaceva perché il gioco era accaduto in tale confusione che la non sapeva più se la sua volta fosse venuta o no andò dunque in cerca del suo riccio il riccio stava allora battagliando contro un altro riccio che sembrò ad alice un'occasione propizia per battere a crocket l'uno con l'altro di loro ma era una difficoltà il suo fenicontero era andato all'altro lato del giardino e alice lo vide che si sforzava inutilmente di volare sopra un albero quando le riuscì di afferrare il fenicontero e lo ricondusse sul terreno il combattimento era finito e i due ricci s'erano allontanati importa poco pensò alice poiché tutti gli archi se ne sono iti all'altro lato del terreno e se lo acconciò per benino sotto l'ascella a ciò che non scappasse più e ritornò al micio per riappiccicare con lui discorso ma con sua sorpresa trovò una folla immensa intorno al digna gatto re la regina e il boia vociavano tutti e tre insieme e gli altri erano silenziosi e malinconici appena alice apparve i tre si appellarono a lei per risolvere la questione e le ripeterono i loro argomenti parlando tutti a una volta così che era difficile per lei di intendere che volessero dire l'argomento del boia era che non poteva tagliare una testa se non ci fosse un corpo da cui mozzarla che non aveva mai avuto a che fare con una cosa simile e che non voleva cominciare a farne a quell'età l'argomento del re era che ogni essere che ha una testa può essere decapitato e il boia non dovea dire sciocchezze l'argomento della regina era che se non si faceva presto avrebbe ordinato che tutti quelli che la circondavano fossero decapitati era questa l'osservazione che aveva dato a tutti quell'aria grave piena d'ansietà alice non seppe trovare altro a dire che il gatto appartiene alla duchessa fareste bene a consultare lei su di ciò e là in prigione disse la regina al boia conducetela qui e il boia andò via come una setta appena il boia sparì la testa del gatto andò dileguandosi e quando ritornò con la duchessa era sparita totalmente il re e il boia corsero qua e là all'impazzata per ritrovarla mentre gli invitati ritornarono a giocare grazie a tutti